Con la serie Unique Marble abbiamo cercato 5 marmi veramente unici al mondo, unici per caratteristiche che possono essere di vena, che possono essere di taglio, ad esempio il paonazzetto ha una vena molto elegante e un colore ruggine che rimane delicato, il calacatta regale invece ha una vena molto ricca con dei cristalli dentro e questo ci ha permesso anche di realizzare una mattonella molto profonda, il bianco siena invece ha una vena molto decisa, molto difficile da trovare in natura, mentre il mongrey ha un colore unico, cioè nel senso che è un colore grigio, ma veramente con delle nuance molto calde dentro. Infine sana noir, la caratteristica di questo marmo è il taglio della vena, infatti è stato fatto in controverso, questo è molto difficile da trovare in natura perché non ci sono lastre di grandi dimensioni, infatti abbiamo dovuto ricostruire piccoli pezzi di marmo per ottenere la lastra. La bellezza di questa lastra è proprio nelle vene. Unique Marmo si arricchisce del decoro ambra, questo rappresenterebbe il marmo affogato nella resina, questa tecnologia è molto usata nell'arredamento e infine per dare massima la presentualità alla serie, abbiamo messo anche la resina da sola. Grazie a tutti.